Per rivalutare il lungomare del Ringo ed il Parco Belfiore basterebbe dare in concessione ai privati le aree oggi degradate, suddividendole in quattro lotti. La proposta del presidente del quinto quartiere Santino Morabito, ogni gazebo un punto di riferimento per attività compatibili con i luoghi. Noi abbiamo presentato all'autorità portuale un progetto che prevede l'affidamento a privati, a divisioni in lotti dell'area, che potessero garantire negli anni la cura e la manutenzione del parco. Chiaramente occorre il terzo pilastro di questo progetto che vede l'autorità portuale privati e l'amministrazione comunale, ma su questo aspetto non siamo riusciti in questi anni ad avere ancora un confronto. Sulla proposta abbiamo chiesto il parere del segretario generale dell'autorità portuale Francesco Di Sarcina, che ha risposto di essere assolutamente favorevole. Adesso bisogna passare ai fatti, superando le lungaggini burocratiche. Riqualificare il lungomare del Ringo è possibile. Per quanto concerne la disciplina delle attività commerciali, si attende il parere del Comune, che però sulla questione non sembra volersi esprimere.